Musica 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 Sì, sì, dico inè, sì, 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 dico inè. Sì, le sto facendo preparare. Tutti anni e di cinque figli venuti al mondo come conini, tutti al mondo come soldati e non ancora tornati. Generale dietro la stazione, lo vedi il treno che portava al sole, non fa più fermante neanche per pisciare. Si va a dire a casa senza più pensare che la guerra è bella anche se fa male, che torneremo ancora a cantare e a farci fare l'amore, l'amore dall'infermiere. Generale la guerra è finita, il nemico è scappato, è vinto, è battuto dietro la collina, non c'è più nessuno, solo agli di pino, è silenzio, è funghi, buoni da mangiare, buoni da seccare, da farci il succo quando viene nata, quando i bambini piangono e a dormire non ci vogliono andare. Generale queste cinque stelle, queste cinque lacrime sulla mia pelle, che senso va dietro il rumore di questo treno, che è mezzo vuoto e mezzo pieno e va veloce verso il ritorno, tra due minuti e quasi giorno e quasi casa e quasi amore. Non siamo altro che nulla nelle immensità universali, mio Dio. Nulla è più sempre qualcosa, nella mezzità universali, mio Dio. Ma è così importante quello che pensiamo noi. Ma è così importante quanto piccoli siamo noi. Siamo un accidente casuale nell'ebbrezza universale, mio Dio. E' più sempre meravigliosa, un'epifania prodigiosa, mio Dio. Ma è così importante quanto piccoli siamo noi. Pago per il sentiero di Diocioso, sono molteplici i miei stati d'animo. Vivo, sorrido e sospiro, dubitoso, mi alzo sul serio e all'istante impiasimo. Lunga attesa e io aspetterò, lunga attesa e io aspetterò. Ciacciano gli uccellini sopra i rami. Lunga attesa e io aspetterò. Lunga attesa e io aspetterò. Lunga attesa e io aspetterò. E queste sono in particolar modo le opere che non abbiamo mai esposto. Non perché siano meno importanti delle altre, ma perché erano difficili da collocare. perché sono tutte un po' diverse. E però siamo riusciti questa sera a creare una sorta di omogenizzazione. addirittura cercando di farle colloquiare le une con le altre. E appare evidente la volontà di Mario di creare un immaginario che va oltre la figurazione. e quindi c'è una struttura geometrica in tutte le sue opere. Ma non è soltanto il punto di vista tecnico quanto invece lo spirito che c'è all'interno di queste opere. C'è una spiritualità altissima che ci mostra in effetti l'animo e l'essenza di Mario. Cioè quello che lui era in realtà. Quindi noi questa sera c'è un piccolo omaggio, una cosa così che siamo riusciti a fare. Ma più che altro era la volontà di così ricordarlo. E di insomma noi ci abbiamo sempre nel cuore. Per cui insomma speriamo di stare sempre così vicini nel suo ricordo. Leggevo anche su Facebook che questa è la prima campagna elettorale dove in realtà Mario manca. e si sente forse la mancanza di una persona come lui. Di un commento critico, di un... Di un cungolo. Di un cungolo, sì. L'ironia soprattutto. Però io credo che comunque lui ci sta sempre insieme con noi così nel... Nell'aria. Nell'aria. Bene. Quindi oltre a queste opere adesso ci sentiamo un po' di musica. Stiamo un po' insieme e lo ricordiamo così con... Con l'affetto. Grazie. 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 Ecco. La mia bella. La mia bella. La mia bella. La mia bella. La mia bella è un po' di musica. They tried to grieve me to cutie For the killing of a day of beauty For the life of a day of beauty Well I said I shot the sheriff But I swear it wasn't self I shot the sheriff But I swear it wasn't self defaced The sheriff John Brown said to me For what? Well I don't know Well every time that I played deceit They said a killer before it was He said I killed him before When he closed And I said Bye 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 Grazie a tutti. 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 One day a tutti. One day... 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti.